La Chiesa e la lotta alla pedofilia, record di denunce nell'ultimo anno, un migliaio i casi segnalati. Ignazio Ingrao. Mille denunce per abusi sessuali arrivate in Vaticano nell'ultimo anno. Sono i dati forniti da John Joseph Kennedy, capo ufficio della sezione disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede. Una cifra record. Le esamineremo tutte con attenzione, assicura Kennedy. Per promuovere la trasparenza e facilitare la collaborazione con le autorità civili, lo scorso 17 dicembre, Francesco ha abolito il segreto pontificio sui reati di abusi sessuali. Questa mattina Bergoglio ha incontrato il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, 40 minuti a porte chiuse, senza l'aiuto degli interpreti. Sviluppo sostenibile, migrazioni, cambiamento climatico e disarmo al centro dei colloqui. Al termine dell'incontro, Bergoglio e Guterres hanno registrato un messaggio congiunto sulla pace. Terminato l'incontro, Francesco ha fatto una visita a sorpresa al liceo classico Pilo Albertelli, nel quartiere Squilino a Roma. Bergoglio ha parlato di immigrazione. Tu sii coerente con la tua fede, ha raccomandato il Papa ai ragazzi. Non si può dire a un ebreo o a un musulmano, vieni e convertiti.